Oggi stavo dando un'occhiata, così come faccio sempre, ai quotidiani inglesi e davo un'occhiata anche ai siti inglesi così per perdere un po' di tempo e dobbiamo un'occhiata allo sport e stavo dando un'occhiata appunto allo sport e quando vedo un articolo su Ibrahimovic ho pensato Ibrahimovic al Milan, dirà sicuramente questo e invece no, il Milan non era neanche menzionato perché gli inglesi hanno tutta una loro idea, ci arriviamo per noi italiani Ibrahimovic dovrebbe andare al Milan si è detto che c'è stata questa offerta da parte di Boban Maldini avallata da Elliot per una certa cifra ed è là sul tavolo, è proprio messa lì sul tavolo e aspetta solo di essere vista, considerata e contemplata da Ibrahimovic questo è quello che si è detto in Italia si è detto anche che il Bologna è su Ibrahimovic che c'è stato questo viaggio di Divaio a Los Angeles è andato a parlare con Ibrahimovic non si sa la risposta, c'è tutta quest'aria suggestiva per cui Ibrahimovic andrebbe aiutare l'amico Mijailovic ci credo poco, ci arriveremo a tutto ma parlando appunto di quello che ho visto nell'articolo inglese se si menzionava sì l'Amarbi, questo scherzo, non scherzo, verità, non verità di Ibrahimovic cioè della maglia verde con la scritta di Ibrahimovic che è la maglia dell'Amarbi, squadra che io conosco oltretutto vi posso dire che non era quello l'oggetto si iniziava da quel punto per poi andare a parlare di cose che notizia, questa è una notizia cioè il giornalista la dà come notizia sì, c'è stata una domanda posta a Mourinho in cui si chiedeva ma è vero che c'è un interesse del Tottenham per Ibrahimovic? e la risposta di Mourinho è stata secca e ha detto no, io rispetto Ibrahimovic ma we have the best striker in Europe noi abbiamo il migliore attaccante in Europa che è Keane e ci credo, è un ottimo attaccante un fortissimo attaccante ovviamente Mourinho l'ha data per secca è stata una secca, secca, smentita ha detto no, guardate ve lo dico non c'è niente neanche da giocare su questo assolutamente no gli Spurs non sono interessati Spurs e il Tottenham non sono interessati a Ibrahimovic questa è l'altra parte dell'articolo allora si è detto e questo lo sapevo anch'io c'è un'altra squadra interessata a Ibrahimovic fortemente interessata a Ibrahimovic e sarebbe il Manchester United sarebbe il Manchester United però è finale io sono stato sorpreso dalla squadra finale comunque c'è il Manchester United che è interessato a quanto pare ci sono stati dei contatti con Ibrahimovic ma Ibrahimovic non vuole tornare a Manchester perché effettivamente io che vivo a Londra chiunque inglese mi dice non andare mai a Manchester non ti trasferire mai a Manchester per nessuna ragione bella città ma piove sempre umida buia, grigia non è una bella città da vivere è una città di soldi anche quella però non è come Londra eccetera eccetera e Ibrahimovic la famiglia specialmente sicuramente è già stato là non ci torna e arriviamo finalmente alla squadra che gli inglesi questi giornalisti pensano sia in pole position io mi aspettavo il Milan ve lo dico in tutta sincerità anche perché facendo i video eccetera eccetera essendo lì sempre su YouTube Italia mi aspettavo il Milan e invece è l'Atletico Madrid le ragioni che portano oltre a questo ovviamente c'è sempre il sentore i contatti Ibrahimovic li avrà con tutti però il fatto che l'Atletico Madrid possa portare due cose sul tavolo molto molto buone una è la Champions League giocare in Champions possibile che Ibrahimovic voglia ormai a 38 anni può fare quello che vuole il conto in banca che praticamente trasborda quel conto in banca può scegliere davvero per elementi che non sono i nostri sono solamente suoi nella sua testa e magari lui vuole giocare vuole vincere quella coppa secondo punto è che l'Atletico sta andando molto bene in Liga è attaccato davvero a Barcellona e al Madrid quindi la può vincere anche quella Liga quindi arrivare a una squadra come l'Atletico dove non ti si chiede di giocare tutte le partite ti si chiede di giocare solo alcune partite in un ambiente quello spagnolo che comunque Madrid è una bella città ci sono tutte queste situazioni che possono effettivamente portare a un avvicinamento fra l'Atletico e Ibrahimovic ma c'è un altro fattore particolarissimo particolarissimo io sono stato molto sorpreso allora premessa voi sapete che io faccio ogni tanto scommetto faccio le pronostici le scommesse eccetera eccetera in questo caso non c'entra nulla non c'entra nulla c'era proprio questa questa menzione di un sito di scommesse un sito comunque uno dei siti di scommesse che aveva appunto sta offrendo questa scommessa di Ibrahimovic Ibrahimovic all'Atletico Madrid era a una quota bassissima bassissima totalmente lontana da tutto il resto ho dato un'occhiata a quella alla lista velocemente perché davvero non avevo più tempo se non ricordo male il Milan era al sesto o settimo posto quindi io non vorrei che quello che si pensa a Milano che pensiamo noi a Milano che stia succedendo a Milano che Ibrahimovic ci viene sicuro non venga e mia non so perché per quale così triangolazione è un rimbalzo della mente mi è venuto in mente Correa vi ricordate Correa dell'Atletico Madrid sicuro e sicuro e dopo non è venuto è sembrato dopo alcuni hanno detto che era un po' trascinarsi via e zittire un po' i tifosi così dando Correa in pasto però alla fine effettivamente Correa non era venuto questi soldi ricordatevi che sono rimasti in tasca al Milan perché il Milan aveva detto 35-40 milioni per Correa sono pronti se li vogliono se li vogliono sì ma non li hanno più spesi quei soldi quindi questo tesoretto o quantomeno questo avvallo da parte di Elliot c'è i soldi ci sono e arriviamo al punto ok quindi la notizia per quanto rimbalza qua nei siti è che Ibrahimovic sia più vicino all'Atletico Madrid però credo che io sono in Inghilterra se qualcuno è in Francia magari in Francia Ibrahimovic lo danno più vicino a chissà quale squadra se si va non lo so in Spagna lo danno vicino credo che la verità in questo momento sia solo dentro la testa di Ibrahimovic e della famiglia ovviamente lui condividerà questa scelta con la famiglia però da quell'articolo effettivamente è abbastanza succulenta la scelta dell'Atletico Madrid c'è tanto nell'Atletico Madrid cose che il Milan non può dare al momento come l'Europa o lottare per la vittoria sono cose che effettivamente quando l'ho letta io ero come voi ragazzi l'ho convinto Ibrahimovic al 99% è là pronto con la penna in mano per firmare per il Milan devo dire la verità dopo aver letto quell'articolo tutto in inglese che non menzionava il Milan un po' l'ho ritirata questa cosa un po' l'ho ritirata perché alla fine anche i giornalisti anche il giornalista più bravo anche il giornalista più all'interno delle cose eccetera eccetera noi sappiamo quello che sappiamo vediamo quello che vediamo ma la verità la sanno altri la sanno sempre altri perché ovviamente loro non si mettono a fare pubblicità se magari Bobano Maldini hanno telefonato Ibrahimovic ci avrà detto e aspetta sì ora vedo perché devo parlare anche con altri questo qua è probabilmente successo questo e probabilmente sta anche parlando con altri detto questo che era una notizia che vi volevo dare Ibrahimovic al Milan personalmente sì certo è bello è suggestivo per me per me come spettatore come italiano mi piacerebbe mi piacerebbe vedere Ibrahimovic in Serie A mi piacerebbe mettermi là davanti allo schermo al gioco al Milan e c'è Ibrahimovic mi piacerebbe tantissimo devo dire la verità se però parlo dal livello proprio tecnico se può portare qualcosa al Milan non lo so perché il Milan non scende il Milan ragazzi non scende ho fatto alcune simulazioni il Milan per scendere dovrebbe perdere partite che voi non immaginate dovrebbe fare filotti non scende il Milan non va in Champions probabilmente a quel punto non vuole andare neanche in Europa League e mettersi lì con i paletti quindi se deve rimanere a galleggiare fra i 12 10 e i 12 posto Ibrahimovic è sbagliato è proprio sbagliato perché dopo sarebbe un tappo per i giocatori che invece devono crescere però si dice dopo con Ibrahimovic cresci che sono questioni che vanno al di là anche dell'aspetto sportivo cioè aspetto se la vede il Milan se la vedono proprio nelle stanze chiuse del settore tecnico delle decisioni tecniche del Milan per quanto riguarda il Milan per quanto riguarda il Bologna devo dire la verità Ibrahimovic servirebbe perché ovviamente con Ibrahimovic non va in B e il Bologna è più impredicato di andare in B però se ci pensate per quanto suggestiva sia ma che ci va a fare Ibrahimovic a Bologna va a svernare davvero va completamente a svernare comunque un giocatore che si è sempre preso la ribalta e se l'è presa di giustezza la ribalta lui lui gli unici anni in cui è andato male è andato quello di Manchester però a prescindere da quello ha sempre giocato bene andrà a prendersi la ribalta a Bologna ma chi ce lo porta a Bologna chi ce lo porta a Bologna si dice che sia Mialovic ma secondo me Mialovic è in tutti gli altri pensieri concentrato giustamente non la vedo questa cosa di Mialovic che lo chiama in questo momento non credo neanche che sia opportuno a meno che il Bologna dice ovviamente per il Bologna sarebbe ottimo il Bologna può pensare sì io prendo dentro l'Ibrahimovic il mio marchietto quello piccolo che non è l'Inter il Milan la Juventus il Barcellona il Real Madrid che sono marchi riconosciuti però un po' faccio un po' di pubblicità al mio marchio quanto spendo alla fine 12 milioni in effetti oggi come oggi con il mercato che c'è in giro per comprare verdi non so quanto hanno speso 15 milioni 20 milioni a questo punto se devo spendere quella cifra la spendo per Ibrahimovic anche per i miei tifosi stessi riempio lo stadio il Bologna va bene l'idea del Bologna l'idea del Milan va bene e il fatto che Ibrahimovic venga e decida mi hanno fatto un ragazzo mi ha mi ha mandato un commento c'è stato un commento subito ieri dopo il video di ieri che ha detto scusa può dire mi ha dato da lei comunque mi puoi dire se secondo te se viene Ibrahimovic cosa sarebbe se ci fosse stato Ibrahimovic cosa sarebbe successo a quei giocatori con il telefonino la mia risposta è stata una è solo una secondo me se Ibrahimovic fosse entrato là nel momento che quelli stanno guardando i ragazzi stanno guardando il telefonino lui primo si pentirebbe di essere tornato primo secondo non direbbe niente perché questa idea di Ibrahimovic che viene e fa il sargento di ferro quindi si sostituisce all'allenatore si sostituisce a Bobani si sostituisce a Maldini si sostituisce a tutti non è neanche giusta per Ibrahimovic non è neanche giusta non è neanche giusta aspettare che venga Ibrahimovic lo prenda lo sbatte al muro è la società che deve dettare quella linea perché i vari quando c'è del grande Milan con i grandi Baresi Tassotti Gattuso eccetera eccetera c'era comunque la società non è che erano in un posto senza la società e per forza se non c'è la società è un tana liberi tutti se non c'è la società se non senti il profumo di società qualsiasi squadra qualsiasi posto di lavoro qualsiasi posto di lavoro smolla le briglie sono sciolte perché umanamente il corpo umano la mente umana vuole il riposo questa è una cosa che noi vogliamo se fosse per noi per l'uomo o per la donna noi saremmo a fare niente tutto il tempo completamente niente il minimo possibile perché è questo come i gatti con anche i cani e non ci va di fare qualcosa quindi se non hai quelle briglie che sono la società e se sei un ambiente complicato perché gli ambienti con più persone si chiamano così ambiente complicato l'ambiente si rilassa quindi non c'entra niente Ibra non Ibra sotto questo punto di vista è un fatto che è la società che deve riprendere il tutto cosa che può succedere a Napoli magari farò un altro un altro video a Napoli si parlava appunto anche di Ibraimovic al Napoli chissà cosa cioè Ibraimovic lo danno ovunque ma chiudendo questo video a quanto pare almeno per quanto riguarda la stampa specializzata ma quello che mi preoccupa non è la stampa specializzata ma i bookmakers perché quelli quando si mettono qualcosa vuol dire che sanno qualcosa loro puntano sull'atletico Madrid io spero che venga al Milan ma davvero spero che venga al Milan perché sarebbe uno spettacolo per il calcio italiano ciao a tutti ragazzi ciao oh dimenticavo prima di ciao chiudere che qua stavo leggendo alcune cose su Youtube eccetera eccetera però se siete arrivati a questo punto vi siete già iscritti però non dimenticatevi iscrivetevi o mettete un like commentate siete sempre i benvenuti in questo canale il canale è vostro non è mio il canale ricordatevi è vostro ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti